Sanità, punti di forza e criticità, la visita della Commissione a Cisanello. Il Parlamento degli studenti, la nuova Presidente, è Maria Vittoria D'Annunzio. Osterie d'Italia 2023, Brilla, l'enogastronomia toscana. La Commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana, guidata dal Presidente Enrico Sostegni, ha fatto visita all'ospedale Cisanello di Pisa, insieme al Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Ad accompagnarli nelle diverse tappe della giornata, la direttrice generale Silvia Briani. L'iniziativa è parte di un tour, annunciato a inizio novembre dopo gli stati generali della sanità, che è partita nel Grossetano due settimane fa e che ha lo scopo di visitare le strutture sanitarie della regione e incontrare gli operatori nell'ambito di una funzione di programmazione, ma anche di controllo e di collaborazione con i professionisti del sistema. La delegazione ha visitato il cantiere del nuovo ospedale, il Dea Dipartimento di Emergenza Accettazione, il Centro Multidisciplinare di Chirurgia Robotica. Nel pomeriggio ha avuto luogo il confronto con la direzione aziendale, i professionisti dell'azienda ospedaliera pisana, le rappresentanze sindacali e il comitato di partecipazione. Al momento, nel grande cantiere di Cisanello, si lavora per completare l'ospedale che prenderà il nome di nuovo Santa Chiara. La guerra in Ucraina, con la conseguente crisi energetica e l'impennata dei costi delle materie prime, oltre che dei consumi, ha determinato un allungamento dei tempi di circa sei mesi rispetto alla tabella di marcia. Si prevede comunque l'ultimazione dei lavori entro il 2025. Al momento sono state realizzate quasi il 50% delle strutture in cemento armato, mentre si attendono dal governo i rimborsi per il caro materiale che consentiranno di non interrompere i lavori. Oggi qui si vede il lavoro della politica. Io ricordo quando inizia il mio impegno in Consiglio Comunale, si parlava di questa grande struttura e portava Pisa a diventare sempre più eccellenza mondiale nella sanità. Da quando divenni consigliere regionale mi impegnai perché quelle parole, quelle idee si trasformassero in fatti concreti. Essere qui oggi, vedere il cantiere che cresce, vedere tante donne e tanti uomini impegnati, realizzare un cantiere mentre l'ospedale in funzione non è semplice. Quindi un grazie a tutti, ai progettisti, a chi ogni giorno ci lavora, alle maestranze, grazie anche ai professionisti della sanità. Non è semplice riuscire a portare avanti tutto questo insieme. Oggi qui siamo con tutta la commissione consigliare in questo grande giro d'ascolto che abbiamo messo in piedi. Stare all'altezza degli occhi delle persone, dei loro bisogni, perché poi questa struttura va riempita di professionisti, di competenze, di tecnologia, perché il futuro della sanità passerà attraverso l'intelligenza artificiale, attraverso i big data, attraverso tutte quelle tecnologie che hanno un obiettivo, migliorare la vita delle persone. Il cantiere del nuovo ospedale sta andando avanti in maniera regolare, sta rispettando i tempi, è affermato a fine vice del presidente della commissione sanità Enrico Sostegni. È emerso tanto che il cantiere sta andando avanti in maniera regolare, sta rispettando i tempi e quindi che sono fondamentali anche perché usa ovviamente parte i soldi del PNRR. Ovviamente poi il tema dell'aumento dei costi c'è stato da 2022 a ora, l'azienda ha cercato di usare tutti gli strumenti per recuperare anche a livello nazionale l'aumento dei costi, è un tema che c'è su tutte le opere pubbliche, a maggior ragione c'è su un'opera di così importante, forse la più importante investimento della sanità toscana, però ci sono tutte le condizioni perché l'investimento possa andare avanti regolarmente e essere concluso nei tempi. Del nuovo Santa Chiara come progetto imponente ha parlato il vicepresidente della commissione sanità Andrea Ulmi. Direi che il progetto del Santa Chiara è veramente una cosa imponente, una cosa veramente bella, ne testimonia la giornata del pomeriggio in cui abbiamo parlato con professionisti estremamente motivati. Ci sono state anche delle critiche naturalmente, critiche che noi di fatto già conoscevamo, in quanto specialmente noi, noi della Lega, il fatto delle tre asle l'abbiamo cavalcato, perché le tre maxi asle per noi non dovrebbero essere tali, ma dovrebbero essere a misura provinciale, e è stato testimoniato anche dal fatto che dice che la filiera di direttore generale cittadino è troppo lunga. Questo proprio perché c'è una distanza abissale tra le zone decisionali del direttore generale e poi come le ricadute che abbiamo sul cittadino. Intervenuto nel corso dell'incontro nel pomeriggio, anche il consigliere Diego Petrucci di Fratelli d'Italia, non è sufficiente per risolvere i problemi della sanità, dire che servono più soldi, ha dichiarato il servizio sanitario in Toscana costa 8 miliardi l'anno e non sono pochi. Bisogna ristrutturare la sanità nel territorio, pensando a un nuovo sistema di interventi domiciliari e anche diagnostici che decongestioni il pronto soccorso e gli ospedali, ha detto. Io faccio notare una cosa, intanto il nuovo Santa Chiara è uno dei progetti più belli che ci sono, più importanti, più centrali all'interno del sistema sanitario regionale. Io sono stato eletto per la prima volta in Consiglio Comunale a Pisa nel 2003, il primo Consiglio Comunale ci mostrarono un rendering del trasferimento dal Santa Chiara a Cisanello dell'ospedale. Stamani mattina abbiamo visto un rendering del trasferimento da Santa Chiara a Cisanello. Nel frattempo quanto ci è costato trasferire un reparto da Santa Chiara a Cisanello, tornare a Santa Chiara e tornare a Cisanello un'altra volta, o trasferire pazienti avanti e indietro tutti i giorni? Quanto ci è costato tutto questo? Una voragine di soldi pubblici che speriamo trovi fine e soprattutto trovi conclusione questo trasferimento che va avanti da quasi vent'anni. Il grande numero di accessi al pronto soccorso è una delle criticità sollevate durante l'incontro da parte delle organizzazioni sindacali e del personale. Emerso anche il problema delle lunghe liste d'attesa, andato non uniforme nelle tre asle che sarebbe legato soprattutto alla mancanza di personale. Il Parlamento regionale degli studenti della Toscana ha iniziato la sua attività in coincidenza con la celebrazione della giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il presidente del Consiglio regionale toscano Antonio Mazzò ha ricordato il suo arrivo in Toscana come studente nel 1996 e ha sottolineato di aver scelto questa terra perché non si è mai voltata dall'altra parte. Senza il diritto allo studio garantito in Toscana io oggi non sarei qui, ha detto. Per questa proposta i ragazzi del Parlamento di fare un patto, non essere mai indifferenti e ha chiesto loro di essere uno stimolo, un laboratorio politico per operare profondi cambiamenti necessari. I ragazzi saranno coinvolti anche nel progetto Toscana 2050 lanciato da Mazzò attraverso le loro proposte e questionari distribuiti. I giovani sono i protagonisti del nostro tempo e vorremmo costruire insieme a loro il futuro. Un grazie al past president, a Mauro Cioci, un grazie a un grande in bocca al lupo a Maria Vittoria D'Annunzio. Avrà di fronte a sé la necessità di lavorare coinvolgendo tutte le ragazze e tutti i ragazzi toscani. Il nostro obiettivo è dare voce a chi ha meno voce. Possiamo costruirlo insieme e credo, anzi, mi auguro che costruendolo insieme possiamo dare quelle risposte che in questo tempo difficile della pandemia non siamo riusciti a dare. Una bella sfida, una sfida collettiva, ponendo sempre un obiettivo di fondo. Un bimbo che nasce in un piccolo comune della nostra regione, nel più piccolo, deve avere gli stessi diritti di un bimbo o una bimba che nascono a Firenze. E' una grande sfida, una sfida che possiamo vincere solo tutti insieme. Presidente del Parlamento degli studenti della Toscana per il 2022-2023 è stata eletta a larga maggioranza con 36 voti Maria Vittoria D'Annunzio, proveniente dall'Istituto Alberti Dante di Firenze. Io sono ancora in credula, non riesco ancora a capacitarmi, non penso di averlo ancora realizzato. Sono felicissima, soprattutto perché ho visto una vera partecipazione anche nel seminario che abbiamo svolto a Montecatini in questi giorni, parlando di parole, pace e quindi l'importanza della comunicazione in tempo di guerra. Ecco, io penso che la comunicazione sarà il punto in cui più mi impegnerò a far rispettare. Perché la comunicazione è quella che serve non solo per far conoscere il nostro organo, ma anche per dare voce a chi in questo particolare periodo storico non ha la possibilità di esprimersi come noi. È stata una bellissima esperienza formativa che ha dato tanto e di cui ricorderò tanto. Purtroppo lasciare il testimone è parte di questa esperienza, ma sono tranquillo a lasciarle a una persona che secondo me farà un ottimo lavoro. Il Parlamento regionale degli studenti, istituito con la legge regionale 34 del 2011, è un organo democratico di rappresentanza degli studenti degli istituti secondari di secondo grado della Toscana. Dura in carica due anni ed è composto da 60 studenti, di cui 50 eletti dalla popolazione studentesca delle scuole e 10 nominati dalle consulte provinciali degli studenti. Il Parlamento elabora proposte, rapporti e relazioni da presentare decisori politici su temi di interesse e di attualità del mondo giovanile, con l'obiettivo di valorizzare il contributo che i giovani possono dare alla realizzazione dei valori che animano e sostengono il progresso civile e sociale. In particolare può formulare proposte all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e alla Giunta regionale, oltre ad osservazioni sugli atti all'esame del Consiglio concernenti i giovani e il mondo della scuola. Può anche chiedere di essere ascoltato in merito dalle commissioni consigliari competenti. Il sussidiario di Slow Food, Osterie d'Italia 2023, premia la Toscana come protagonista tra le mete più interessanti dell'enogastronomia d'Italia. Nella 33esima edizione, presentata in Palazzo del Pegaso, le ormai famose chiocciole che Slow Food assegna come tratto distintivo di convivialità e scoperta del territorio, premiano la nostra regione con Nonno Cianco di Abetone Cutigliano in provincia di Pistoia, l'Osteria dell'Enoteca di Firenze, Azzighe, Osteria a metà di Livorno, la Ciottolona di Montieri in provincia di Grosseto, la Bottegaia di Pistoia e infine la Casa del Buono di Terra Nuova Bracciolini in provincia di Arezzo. Si parla di Osterie, Osterie che del concetto è a Slow Food di Osteria, quindi non intendiamo l'Osteria con la tovaglia bianca e rossa o con il fiasco ancora impagliato, ma è un'Osteria moderna, un'Osteria dove l'accoglienza è al primo posto, poi il buon cibo che deve essere buono, pulito e giusto ed è a livello nazionale. C'è molta Toscana, è la regione più rappresentata in Italia e quindi abbiamo un numero di circa 140 Osterie e una trentina di queste Osterie sono chiocciolate. La chiocciola per noi è il simbolo di prestigio dell'associazione, cioè sono quelle Osterie che hanno insieme tutti i loro requisiti che noi come Slow Food cerchiamo. Oggi fra l'altro abbiamo le sei nuove chiocciole della guida di quest'anno. La guida Osteria è una guida in continua evoluzione, quest'anno abbiamo prima di tutto rimpinguato il nostro gruppo di collaboratori, siamo 22 collaboratori. Per quanto riguarda invece l'Osteria abbiamo introdotto anche dei nuovi premi, c'è un premio al bere bene che consiste in tutte quelle Osterie che si impegnano non solo nell'avere una buona carta dei vini, ma anche nell'offrire della birra artigianale, dei distillati, tutte quelle bevande selezionate con cura. Abbiamo in Toscana, come diceva Gianmarco, il maggior numero di chiocciole in tutta Italia e quest'anno presenti oggi alla presentazione ufficiale sei nuove chiocciole che hanno appunto rimpinguato il numero delle chiocciole toscane, che sono 27. In questo manuale alla scoperta del buon cibo e del buon bere d'Italia ci sta tutta l'idea della nostra Toscana, ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Io sono contento, davvero felice di poter ospitare questa presentazione qui a Firenze in Consiglio regionale. Ci sta un po' tutta l'idea di Toscana, la Toscana del mangiarsano, la Toscana della cura dell'ambiente, dei prodotti enogastronomici locali. Ci sta il sudore e la fatica di tante donne e di tanti uomini che portano in alto il nome della nostra regione. È bello sapere che oggi qui ci sono anche cinque delle sei nuove chiocciole della Osteria Slow Food 2023. È un connubio forte, è un connubio che tiene insieme il buon cibo, l'arte, la cultura e soprattutto la persona, perché ogni volta che si va in un'osteria toscana ci si sente come a casa. Orgoglio per il primato toscano conquistato dalla nostra regione è stato espresso dal portavoce dell'opposizione, Marco Landi. Sull'eccellenza della cucina toscana e sull'importanza della promozione e valorizzazione, Landi ha presentato una mozione che il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità lo scorso anno. La guida Osterie Slow Food d'Italia arriva alla sua 33esima edizione. La Toscana è la più rappresentata all'interno della guida, sia per le chiocciole che sono state attribuite alle osterie toscane sia per le osterie che sono poi inserite nella guida. Quindi è un motivo di grande orgoglio essere qui a presentare oggi questa guida, perché chiaramente Slow Food è un'eccellenza nel mondo enogastronomico e rappresenta anche una lungimiranza, perché quello che oggi è il valore territoriale delle aziende e dei prodotti locali, Slow Food lo rappresenta pieno, e quindi siamo veramente orgogliosi di poter presentare oggi la guida qui in Consiglio regionale della Toscana. Guardando allo specifico di Prato e Provincia, sono quattro le conferme che anche per l'edizione 2023 sono state inserite nella guida Osterie d'Italia. L'Osteria su Santa Trinita, la vecchia cucina di Soldano, su Peicanto a Carmignano e la Castagna a Migliana. Un territorio tutto da esplorare e da gustare. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie.